Luigi Cremona, ben arrivato a Palazzo Lanza, un giornalista storico dell'enogastronomia italiana, qui all'ultima serata della settima edizione del Capo e Luogo della Lingua Festival, che per il secondo anno si conclude con un premio dedicato al Falerno e agli scrittori alla prima opera, il premio Falerno Primo Romanzo. Noi qui durante l'anno promuoviamo il Falerno, sotto l'egida della quale proponiamo scrittori sordienti. Il Falerno che resta un'eccellenza limitata sostanzialmente rispetto ai grossi mercati nazionali ed internazionali. Che cosa ne pensi? Qual è la criticità che rende il Falerno ancora un prodotto d'elite? Beh, guarda, innanzitutto grazie di questo invito perché amo sia il vino che i libri, per cui diciamo pure per me è un piacere quando partecipo a un tipo di manifestazione tipo questa, dove c'è cultura letteraria, c'è anche cultura enologica. E questo sicuramente è una bellissima cosa, secondo me è arte uno e arte l'altro, quando è fatta bene chiaramente. Venendo più specificatamente al Falerno, ma io non mi preoccuperei tanto della nicchia, cioè il Falerno è vero, non è che si trova così facilmente in giro o che sia noto a tutti, ma credo che il problema non è tanto questo. Ci sono altre tipologie di vino molto famose e molto importanti in Italia, in altre nazioni, che sono tutto sommato di poche migliaia o decine migliaia di bottiglie, insomma limitate comunque. E ciò non toglie che magari rendono il territorio molto famoso. Ecco, io credo che bisogna migliorare la comunicazione, l'immagine e ovviamente la sostanza, oltre che la forma del Falerno, ma se rimane poi una produzione piccola non mi preoccuperei. Deve essere eccellente, allora anche se sono poche, se è eccellente la gente arriva, la gente viene. Il pericolo anzi potrebbe essere che magari se ne fa addirittura troppo e magari alcune bottiglie di grande qualità così si disperdono in un numero di bottiglie di minore qualità. E ricordati sempre che nel territorio poi l'immagine fa sempre il vino più cattivo, cioè il livello di qualità è sempre quello del meno buono, chiamiamolo così. Per cui è chiaro che bisogna cercare che rimangano i produttori veramente che ci chiedono. Poi se sono tanti è ancora meglio, però anche se sono pochi io non mi la metto. L'importante è che la qualità media sia sempre più alta, con qualche eccellenza. Una notizia che è apparsa in questi giorni raccontava che l'Italia ha superato la Francia in tema di vino, in tema di vino esportato ovviamente. Cosa ne pensi di questa notizia? È vera innanzitutto? È vera, però è successa un'altra cosa che lo spumante batte lo champagne, si è visto perché sta raggiungendo lo spumante italiano. Siamo lì sui 300 e rotti milioni di bottiglie, circa pari ormai allo champagne. E' così lo stesso nel vino, sono i milioni di bottiglie e così via. Però sono notizie che non rappresentano quella che è la realtà del vino. In tutto il mondo l'immagine dello champagne e il prezzo meglio di uno champagne è almeno due o tre volte quello di uno spumante italiano meglio. E quindi è quello che è il problema, cioè noi dobbiamo recuperare ancora un larghissimo gap nei confronti della Francia, che diciamo pure è partita storicamente qualche secolo prima, per cui da una parte è logico che sia così. Però secondo me sbaglierare questi falsi traguardi, che non sono dei traguardi importanti, non conta fare più vino, tanto il vino probabilmente andrà a decrescere in consumo e in quantità prodotta. Perché? Perché si stanno affacciando tanti altri paesi molto più grandi, tipo la Cina, tipo l'India e così via, che butteranno sul mercato milioni e milioni di bottiglie, sicuramente a prezzi estremamente concorrenziali. Quindi il problema non è la quantità, probabilmente tra dieci anni il primo produttore al mondo sarà la Cina, dico per dire, ma il primo produttore al mondo sarà sempre la Francia, anche tra dieci anni, secondo me, perché? Perché fai il vino più buono. Noi dobbiamo cercare di essere innanzitutto dei buoni secondi e perché no, di mai arrendersi di fronte alla Francia. Tu sei anche conosciuto per il tuo blog che si intitola Porzioni Cremona e mi ha fatto sorridere questo nome che hai dato al tuo blog perché tu che visiti almeno 500 ristoranti all'anno, degustazioni di vino, di piatti tipici, di prodotti, sostanzialmente quando ti presentano i piatti o i bicchiericchi di sempre porzioni piccolissime, da qui il titolo che hai dato al tuo blog. Che cosa racconti nel tuo blog? È un inmito a conoscere i prodotti d'eccellenza del nostro territorio, ma dell'Italia? Diciamo, il mio blog è il blog più tradizionale che esista, nel senso che è un diario praticamente, cioè è un racconto quello che faccio, però io mi muovo tantissimo, io faccio oltre 100.000 km l'anno e coprendo un po' tutta Italia, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, per cui giro tantissimo, faccio tanti ristoranti ma anche tanti prodotti, aziende agricole, vini, eventi e così via, per cui io credo che la mia cronaca, tra virgolette, è uno spaccato della cronaca dell'Italia enogastronomica effettiva, per cui penso che agli appassionati possa essere interessante seguire, infatti è così perché è molto seguito, poi è sempre più seguito. Il Porzioni Cremona è nato per scherzo, chiaramente, però è chiaro che se uno fa questo mestiere, deve pure pensare che, insomma, io sto sempre fuori assaggiando, ma anche tra un ristorante e un altro, assaggio magari un pezzo di formaggio che vada a capitare in un caseficio, oppure una degustazione di vini, o si entra in una pasticceria e tutti mi vogliono far assaggiare tutto quanto, per cui è un continuo e allora bisogna chiaramente trovare la soluzione, la soluzione è mangiare poco, assaggiare bene, mangiare poco e si riflette anche di più, cioè sfido chiunque a degustare dei piatti dopo un etto e mezzo di tagliatelle o bezi mezzo di vino e poi fare degustazione di vino, cioè ci vuole logica e buonsenso. Tu adesso ti stai preparando per un altro appuntamento importante, che è il Miglior Chef d'Italia, sesta edizione, che però quest'anno ha una novità, ci sarà una finalissima a Roma il 22 e il 24 ottobre, una novità perché sostanzialmente prima di questa volta non c'era mai stato un vincitore assoluto. Ebbene, da oltre sei anni noi seguiamo i Giovani Chef, infatti questo è il premio al Miglior Chef Emergente, il miglior cuoco giovane d'Italia. Per noi i cuochi giovani sono quelli sotto i 30, quindi sono veramente giovani. E noi facciamo questa serie di eventi, sono specializzato da tanti anni, io mando pure questi chef emergenti, li segnalo alla prova del cuoco, loro alla TV e per cui loro da anni, praticamente quasi tutti i cuochi della prova del cuoco sono stati in un certo senso selezionati da me storicamente, per cui è una cultura che mi sono fatto, li seguo, mi piace, mi piace seguire i giovani, poi man mano che mi invecchio mi piace sempre più seguire, forse vedere un po' il ricambio generazionale e così via. E quindi li seguo e faccio molti di questi appuntamenti un po' in giro per l'Italia, quindi il premio al Miglior Chef Emergente del Sud, del Centro, del Nord, ma poi ci sta, adesso ho fatto quello nel Trentino, ci sono anche degli approfondimenti territoriali. E quest'anno per la prima volta dopo queste anni abbiamo pensato, beh facciamo, è stato un po' il centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, abbiamo detto, beh questo clima ha un po' di celebrazioni unitarie, ma facciamolo pure, è un premio a Roma, mi pareva corretto. E tra l'altro siamo sotto a Quirinale, perché saremo sopra il Palazzo delle Esposizioni a Roma, via Nazionale, che c'è un bellissimo posto che si chiama Open Colonna, molto bello, è un grandissimo ristorante di oltre mille metri quadrati, quindi è veramente un grande spazio, dove ci sono le cucine, quindi possiamo organizzare una cosa importante, secondo me, sempre limitata però importante, quindi dal 22 al 24 ci sarà questa finale, e quindi magari ti aspetto. Molto volentieri, ma il vincitore poi dove andrà? Ecco, ai primi di novembre c'è il summit della cucina italiana nel mondo, che ha sempre più successo nella cucina italiana nel mondo, meno male, è una di quelle cose in cui siamo ancora bravi e soprattutto l'export non diminuisce, ed è a Hong Kong. A Hong Kong vengono invitati sempre alcuni chef famosi, ma in genere più per gli chef italiani all'estero, che ormai non stanno più nella trattoria, non so, ecco, un tempo i ristoranti italiani all'estero hanno un basso livello, una bassa immagine, o trattoria molto semplice, o pizzeria, o così via. Adesso stanno anche ristoranti di grandissimo prestigio, in grandissimi alberghi, e Hong Kong ha decine e decine di alberghi di lusso, e alcuni di questi sono dei ristoranti italiani di assoluto livello. E non solo Hong Kong, arrivano lì poi, da Singapore, da Shanghai, da Tokyo, e così via, quindi è molto, ci sarà un incontro soprattutto dedicato ai grandi chef italiani che vivono all'estero e così via. Poi ne viene sempre un paio di famosi dall'Italia, e in questo caso mandiamo pure chi vincerà, che sicuramente avrà una bella esperienza, perché io credo che la ristorazione è come il vino, come il libro, è cultura, per cui se uno viaggia impara. Allora rimani con noi per il nostro viaggio, qui a Palazzo Lanza, attraverso il vino Falerno, e gli scrittori esordienti. Grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo. E poi un bicchiere di Falerno per brindare. Assolutamente sì. A più tardi, e sempre porzioni cremore.